Luca Bosio, BFE e Belcolle, siamo qui a Verduno però a parlare di una Barbera d'Asti che si chiama Nuanda. Nuanda cos'è? Un vigneto particolare, un vitigno particolare oppure che cos'è? Beh, l'accettazione fu il vigneto e non me l'aveva ancora detto nessuno, quindi diamo spunto alla fantasia, questo è curioso intanto. Allora, Nuanda è una citazione di un film famosissimo, L'attimo fuggente, in cui il protagonista a un certo punto della sua carriera decide di cambiare il suo nome, cambiare direzione e assumere questo nome di Nuanda che è un nome dei pelle rosse indiani dove praticamente è il simbolo di forza, di potenza e noi abbiamo deciso di dare questo nome, se vogliamo, un po' strano al vino ma per un semplice motivo. Innanzitutto è un vino che deriva da una vigna molto particolare che quindi ha potenza, ha forza ma anche eleganza e dall'altra parte è anche un modo per dire come per la prima volta nella cantina Belcolle, cantina storicamente classica con un'impronta molto tradizionale di tutti i suoi vini, si è deciso per la prima volta di impostare una vinificazione che segue un'altra direzione, quindi siamo in una direzione di modernità, con tecniche d'avanguardia, diciamo classiche ma d'avanguardia che sono state riprese come l'appassimento su pianta e in cui quindi si uniscono insieme, diciamo, la storia e il passato della cantina Belcolle e un po' il suo futuro. Ecco, ma diamo qualche caratteristica su questo, questa è una barbera d'asti superiore con una gradazione di tutto rispetto che arriva da una resa estremamente selezionata, no? Sì, beh, è una vigna molto particolare, questa qui dall'annato 2016 è la nostra prima vendemmia e a essere sinceri quando fu epoca di raccolta rimaniamo basiti perché la raccogliemmo a fine agosto quindi intorno al 22-23 d'agosto che per una barbera è una situazione non così comune però ha un famoso terroir molto particolare perché si uniscono l'esposizione, la tipologia di terreno se vogliamo anche il sesto di impianto, la tecnica di gestione del vigneto fa sì che a fine agosto sia una barbera con un alcol potenziale poi nel bicchiere di 16 gradi circa quindi molto alto, molto sviluppato e molto concentrato è di nuovo una vigna veramente strana, veramente unica nel suo genere poiché non è foggetta di radamento quindi fuono due ettari e mezzo all'incirca e fu due ettari e mezzo si ottengono solamente 130-140 quintali d'uva senza nessun intervento diciamo esterno sulla regolazione della produzione quindi è la produzione sua, fisiologica della pianta che si ferma a quel quantitativo Si può dire quindi che questo vigneto, beh possiamo dire anche dov'è questo vigneto nella zona? Sì sì certamente, questo qua è un vigneto della zona di Bionzo quindi siamo in zona Barbera d'Asti ed è anche questo forse un po' una nostra sfida portare tra le colline di Varolo un po' della nostra terra stigiana quindi miscelare un pochettino, sempre di più, due grandi zone viticole e provare a proporre nel mondo questa unione tra zone che sono sempre state considerate abbastanza diverse anche se vicine Quindi diciamo che questa Barbera nasce nell'Astigiano e poi respira un po' di aria qui nella zona del Barolo Ecco, ma si può dire che questo è un vigneto che si autoregola da solo, no? Una cosa un po' particolare Beh diciamo di sì, nel senso noi l'abbiamo appunto iniziato a gestire nel 2016 quindi adesso non abbiamo ancora tutta questa esperienza alle spalle nelle due annate che abbiamo seguito noi direttamente si è però effettivamente dimostrata autoregolante cioè ovviamente va gestita diciamo in inverno e nelle prime fasi primaverili con un po' di regore, un po' di metodo ma nel momento in cui poi le uve arrivano da legagione e inizia l'invariatura si autoregolano quindi non si ha più necessità di andare ad asportare dalla produzione cosa che solitamente, una pratica consueta, si fa per incrementare la qualità qui non è stato fatto nulla di tutto ciò probabilmente il tutto oltre al concetto di terroire è anche legato al fatto che è stato scelto un clone di Barbera vecchio che aveva come caratteristiche la bassa produzione il grappolo piccolo e spargolo e l'acino anche abbastanza piccolo quindi diciamo una vecchia tipologia di Barbera ora non più così comune sull'etichetta avete scelto l'etichetta ha questo tra l'altro è anche da un punto di vista tattile perché c'è questo simbolo questo logo nuanda con questo simbolo del fulmine in rilievo con questo inchiostro a rilievo ecco, è un simbolo di forza ma quali sono le caratteristiche di bevibilità di questo vino? beh, è un vino che... non solo l'alcol, no? no, beh, l'alcol fa parte del vino ringraziando la natura non è l'unico componente che ci fa apprezzare questo prodotto è ovvio che un vino con un alcol nel bicchiere di circa 16 gradi fa sì che sia un vino molto potente che ha necessità più di altri di aver ben equilibrati tutti i suoi componenti per non risultare eccessivo e per non risultare anche come dire poco bevibile nel momento in cui si bevono i primi due sorsi e qui di nuovo entra in gioco la natura che fa di per sé già tutte le magie di cui abbiamo bisogno per cui sì che l'alcol è elevato però il tutto è ben bilanciato da una concentrazione di tutti gli altri elementi caratteristici di un vino rosso per cui dall'acidità dal contenuto antocianico dal contenuto del complesso polifenolico del vino che fa sì che sì che uno sente la percezione se percepisce veramente l'alcol però il tutto amalgamato in un prodotto ben equilibrato ultima domanda mancano un paio di settimane al Vinitali 2018 voi lo presenterete? sì questo prodotto si è rappresentato al Vinitali all'interno di un programma di tutta la cantina Belcolli in cui stiamo sviluppando diciamo una linea di vitigni autoctoni e di particolarità per cui probabilmente la barbera d'asti di per sé non è una particolarità lo è però se la si posiziona a Verduno in zona Barolo lo diventa diciamo per definizione comunque oltre alla barbera d'asti presenteremo anche un vino bianco da una varietà autoctona di Langa e oltre a una barbera in in appassimento diciamo non appassimento su pianta come avviene con questo ma un appassimento diciamo sul gratticio tradizionale e anche un moscato d'asti in diciamo speciale ecco in una versione speciale e anche Grazie a tutti.